In Iran e nei paesi di religione islamica tagliarsi i capelli è segno di lutto. Per questo, in memoria di Masa, le donne iraniane hanno iniziato a protestare tagliandosi i capelli e bruciano gli hijab nelle strade contro la rigida applicazione del governo della legge sul velo. Proprio quel velo, che messo non correttamente, ha provocato la morte della giovane Masa. Per questo e per parlare dei diritti delle donne, alla Casa delle Culture del Volontariato si è tenuto il convegno Libertà, Donne e Diritti, Iran e Chiama Europa, organizzato dal Movi e dall'Auser di Caltanissetta. Al suo interno sono intervenuti Esther Vitale, former member Comitato Economico e Sociale Europeo e portavoce dell'associazione Onde Donne in Movimento, e il magistrato Giovanni Battista Tona, dove hanno parlato e ascoltato insieme con il pubblico presente alcune testimonianze di donne iraniane. Non è possibile, in modo particolare anche noi, dove viviamo adesso l'integrazione, noi abbiamo 12 etnie a Caltanissetta e ci sono presenti di queste ragazze, di questa realtà dell'Iran. E mi sembra più che giusto, rispettoso, che noi facciamo una battaglia insieme a loro, anche se c'è una distanza geografica con loro, ma è giusto che loro sappiano che noi combattiamo e siamo vicino a loro. Quindi da questo momento nascerà un osservatorio permanente per questa battaglia e quindi invito chiunque vuole avvicinarsi, la casa è aperta a tutti.